intanto Andrea Paci con Burlamacco e un dire Miss Carnevale di Vareggio raggiungono la banda Svizzera. Abbiamo voluto scegliere Vareggio e per noi è un grande onore per festeggiare i loro 20 anni. Arriva di Ceneiro al centro della piazza Mazzini. Andiamo, andiamo, musica, musica, musica. Grazie a tutti. 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 Derecho!